Signore e signori, l'immaginazione diventa realtà e niente è come sembra. America, se ne andiamo via. A noi ci servono solo i documenti. Con 300 lire a testo ci fanno meglio di quelli originali. Io con 300 lire mi scopo le miglior mignotte di Roma per anno. Per te è facile, eh? Perché sei normale. Noi senza circo siamo una banda dei vostri! Ma non ci ha separato nessuno. Manco la tua. Levati! Dammi un bacio e me nevo. Oh! Baci proprio da schifo! Tu sei speciale, ragazzi. Il mio non è un dono. È una maledizione. Ma perché non donisci a noi? Ti faccio diventare una guerrigliera. Alla crisi! Alla crisi! Alla crisi! Alla crisi! Frans, sei convinto che esistono scherzi della natura dotati di poteri speciali. Drei, ragazzi! E un piccolo ragazzo! Sì! Sì! Pronti? No! Il piano è questo. Sartiamo sul treno. Oviamo e se ne andiamo. Do sartiamo? Ci sto. Pure io! Che piano del cazzo! Non assisti! Ammazza come siete cattivi! Giochiamo a fare la guerra? Passa. Eh? Eh? No!